Per Cristo nostro Signore, per intercessione a Berge Maria, la benedizione di Dio Nipotente e Padre, Spirito e Spirito Santo, dicendosi a noi su questo colore e si aiuti a camminare sempre nella vita di Dio. Per Cristo nostro Signore. Signore, signore, signore. Signore, signore, signore. Signore, 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 sign la ciappa male l'aria c'è un po' di brezza verso il mare eh ma... bisogna vedere quando ciappa bene se le faccio in piedi del fungo un po' sin resa la ciappa ecco le famiglie BOOM 5 minuti arriva già all'apice in 5 minuti ecco già va già va il vano da silvano il vano sempre sappia sempre c'è andrea saboli primi mesi che si era potente restano Guarda che caldo qua! Guarda che lei è già qua! Dov'è? Allora! Facebook! Facebook! uaaah... Oh, bravo. La biffi, la biffi. La biffi, la biffi, la biffi. 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 La biffi. La biffi, la biffi. La biffi, la biffi. 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 La biffa. La biffa. Vi fare. Vi fare. Una biffa. Mi piace una Nowlaninay per il Llunную. La Biffi. Via. Vi. Via. 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 Mar Brava. Porra. Non è vero che mi fanno su Facebook? Non ti sono mai visto, mi fanno, vado a me, vado a me, vado a me, vado a me. Non è vero una mano? Vado a me, vado a me, vado a me, vado a me. Vado a me, vado a me, vado a me, vado a me.